Nei gruppi Facebook gli amministratori non hanno grandi poteri, è quindi importantissimo che gli utenti contribuiscano attivamente all'ordine segnalando direttamente le infrazioni a Facebook, le quali possono costare ai fautori sia dei blocchi temporali come anche la cancellazione dell'account. L'infrazione più frequente è lo spam. Lo spam toglie autorevolezza al gruppo e getta discredito, ecco come effettuare le segnalazioni a Facebook. Grazie per la visione! Su Facebook operano degli utenti il cui unico intento è gettare discredito. costoro di consuetudine usano degli account con delle credenziali inventate, si nascondono dietro a nomi di fantasia, costoro sono i cosiddetti troll e in questo video vi mostriamo come segnalare questi utenti fasugli a Facebook in modo da bloccare il loro operato. Grazie per la visione! 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 Grazie.